ciao ragazzi si sono sempre io mario il coach prima di iniziare ti ricordo che il coaching online quindi come allenati in diretta con il coach quindi con me subito dopo subito dopo capirai come farlo e adesso ti spiego questo video cosa succederà una giornata con alessia quindi guarda questo suo allenamento completo quindi dal riscaldamento alla forza è un bel workout finale tu invece se hai qualsiasi domanda o qualche dubbio mi iscrivi sotto ti iscrivi anche al canale se ti piace ovviamente al massimo lascia un mi piace e noi ci vediamo alla prossima e tu allenati bene ciao 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 ciao